Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Top Games, io come sempre sono Andrea e oggi andremo a parlare di 5 motivi per cui bisognerebbe acquistare Elden Ring, già che l'ultima volta abbiamo detto 5 motivi per non farlo, oggi facciamo un po' e basti a incontrare. Se non l'avete ancora fatto mi raccomando iscrivetevi al canale, lasciate un like, un commento qua sotto e attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati sull'uscita dei nostri nuovi video e vi ricordo che comunque qua sotto se avete intenzione di sostenere il canale attivamente ci sono gli abbonamenti e i super grazie. Ma veniamo subito alla Top 5 dei motivi per cui bisognerebbe acquistare Elden Ring. Allora al primo posto c'è la storia, la storia vede Miyazaki e Martin, quello del trono di spade che hanno scritto questo magnifico mondo. Vi faccio un piccolo spoiler, probabilmente ci sono anche in mezzo gli alieni ma di questo ne andremo a parlare poi in un video dedicato dove andrò ad approfondire un pochino la lore dei personaggi, degli dei. Perché determinate entità si definiscono dei e in rapporto a chi? Perché sembra che nel mondo ci fosse la magia ma una parte fu portata da qualcuno che cadde dal cielo. È un po' intricata ma mi piace, mi piace tantissimo. E per la prima volta in un Souls la storia viene raccontata un po' più liberamente e non è soltanto scritta in ogni singolo oggetto, in ogni singolo sasso, in ogni singola lucciola che vedete in giro ma viene introdotta. Mettiamola così, almeno viene introdotta. Il secondo motivo è il gameplay. Il gameplay è molto avvincente e funziona ragazzi, per quanto sì la cavalcatura non sia la cosa migliore che hanno fatto, però è comunque bello. Bisogna prenderci un po' la mano, bisogna starci un po' attenti, non si può fare tutto ma è assolutamente funzionante. C'è praticamente l'interezza di Dark Souls mescolata alla capacità tecnica che viviamo all'interno di Bloodborne. Queste due cose messe insieme all'interno di Elder Ring, sinceramente, a mio avviso funzionano magnificamente e il gameplay ti assorbe completamente, tanto è vero che quando perdi ti arrabbi, ma ti arrabbi molto meno, perché finalmente From Software ha deciso di non frustrare i propri giocatori a morte e ci ha dato delle statue che si trovano spesso molto vicino ai boss, ai portali dei boss, ci ha dato un casino di grazie e dei falò dove riposarci e registrare i nostri avanzamenti, in modo da non perdere sempre tutto quanto, tutte le volte, riniziando tutta una zona completamente da capo. Anzi, ci ha agevolato tantissimo. Gli oggetti, le armi, tutto quello che compone il mondo di gioco sono il mio terzo motivo per cui acquistare Elder Ring. Perché? Perché se vi piace grindare, se vi piace il farming, se vi piace cercarvi le cose, andare a scoprire i segretuccoli o le armi speciali, Elder Ring è esattamente il titolo che fa per voi, perché vi assorbirà a morte in un sacco di ore spese nella ricerca dell'arma migliore o quella più adatta a voi o alla situazione che state andando ad affrontare. Quindi, nel complesso, questo è il mio terzo motivo. Il mio quarto motivo è la difficoltà del gioco che ha avvicinato un sacco di player ai souls. Questo è Elder Ring e si inizia a giocarlo in easy mode. Rendiamocene conto, ragazzi. Mi dispiace per tutti quelli che hanno grosse difficoltà, ma basta utilizzare un minimo di tecnica per trasformare questo gioco nella cosa più facile e divertente che abbiate mai affrontato. Vi faccio un esempio. Io stesso ho iniziato il gioco con una katana perché appena ho iniziato e sono uscito dal tutorial ho corso, ho corso per andare a prendere la katana che mi interessava, che è la luna velata. Poi ho preso la katana di Yura uccidendo Yura perché mi interessava la zanna lunga e dopodiché io le ho portate fino alla fine del gioco. Ci avrò messo 20 minuti a recuperarle. Che cosa vuol dire questo? Che chiunque con un minimo di tecnica e conoscenza del gioco, quindi grazie anche a guide youtube, magari aiuti da amici eccetera eccetera eccetera, può trasformarsi in una macchina pronta a disintegrare il gioco in men che non si dica. E man mano che avanzerete vi renderete conto che il gioco non è così punitivo come gli altri Souls o Bloodborne o Sekiro soprattutto. Anzi vi lascerà degli spirali un margine di errore che tanti altri giochi della casa From Software non hanno. Quindi ragazzi se volete approcciare per la prima volta un gioco di From Software questo è quello giusto perché vi dà la possibilità, passatemi il termine, di cazzeggiare. Gli altri giochi non ve lo permettono, anzi vi porteranno in un circuito di grinding e di nervosismo insinuato nella vostra persona da determinate situazioni e leve che giustamente From utilizza in questi titoli. Voi vi accanite contro il gioco ad un certo punto se non riuscite. In Elden Ring invece basta girare e andare da un'altra parte. Non battete il boss perché è troppo forte, fatevi un giro, farmate, andatevi a cercare un'arma magari, tornategli e fate un mazzo tanto. Ultimo motivo, la caratterizzazione dei personaggi. Io sono riuscito anche se indirettamente in maniera molto distaccata, lo ammetto, però mi sono affezionata dei personaggi. Io sono arrivato ad un certo punto che ho dovuto, ho dovuto. Mi sono messo a fare i video in cui uccido tutti gli NPC per far vedere che cosa succede, che cosa droppano eccetera e alcuni mi sono, come dire, mi è dispiaciuto farlo. La storia delle meduse che ho portato sul canale mi ha lasciato di stucco, mi ha lasciato veramente a bocca aperta. Questa è una profondità nella creazione anche di personaggi minori quasi insignificanti ai margini della storia che fa paura ragazzi, fa paura e una volta che avrete fatto magari qualche quest in particolare che vi servirà per avere magari un aiuto durante una boss fight o per chiudere la storia effettivamente di un personaggio che in quel momento è un nemico ma che in verità scoprirete essere soltanto un personaggio guidato da esseri superiori ad essere un vostro nemico. È complicato da capire, è complicato da vivere ma guardando il gioco con occhio traverso, non diretto, perché se guardiamo il gioco con occhio diretto noi mireremo ad arrivare alla fine per essere i più forti, per essere i migliori. In verità in Elden Ring non dobbiamo dimostrare proprio niente a nessuno e possiamo giocarlo e viverlo come cavolo ci pare. Anche il nostro rapporto con i personaggi può essere come cavolo ci pare. Ci piace ascoltarli, ci piace vederli, ci piace cercarli in giro per la mappa perché in ogni quest magari i personaggi si spostano, si trovano in un altro posto, ci guidano in un modo che ancora non riusciamo a capire ma che poi nel disegno complessivo si trasforma in un'avventura magnifica. Quindi ragazzi godetevelo, godetevelo perché in Elden Ring potrete mettervi alla prova giocando, affrontando sfide su sfide magari senza salire di livello oppure usando armi normalissime senza utilizzare quelle speciali oppure se non ne avete voglia potrete andare a prendere immediatamente l'arma più forte del gioco e trasformarvi in Nio di Matrix volando per tutta la mappa e spaccando il mondo. Fate quello che volete e siate chi vi pare. Elden Ring vi dà questo e vi dà una grandissima storia e vi dà dei personaggi da vivere anche se a piccole dosi ma i personaggi sono grandi ve lo assicuro. E niente ragazzi siamo arrivati alla fine anche di questo video. Mi raccomando fatemi sapere le vostre motivazioni per cui avete comprato e per cui consigliereste di comprare Elden Ring a qualcun altro. Noi ci rivediamo sempre in un altro video qua su Top Games. Mi raccomando iscrivetevi al canale, lasciate un like e un commento qua sotto, attivate la campanella e se vi fa piacere sostenere il canale attivamente io vi ricordo che qua sotto ci sono i super grazie e gli abbonamenti. Ciao a tutti!